I protestanti evangelici, pentecostali, di qualsiasi denominazione che viene da Lutero insomma, sono soliti dire che noi non abbiamo bisogno del sacerdote cattolico, quindi del prete, perché loro dicono che il sacerdozio sarebbe cessato e vi prendono una scrittura dove vi leggo questa scrittura che troviamo nella prima lettera di Pietro nel capitolo 2. Dice il versetto 9 Quindi cosa ci dicono i protestanti? Vedi? C'è scritto che siamo tutti sacerdoti, quindi non c'è bisogno del prete, quindi tutti siamo sacerdoti, tutti possiamo ministrare i sacramenti. Ecco, questo è quello in maniera spicciola quello che dicono i protestanti, ma vediamo che questa cosa ovviamente è falsa, perché? Perché questo versetto è mal interpretato dai protestanti, perché loro non tengono conto del contesto, infatti qui l'apostolo Pietro, quindi San Pietro, sta citando un passo dell'Antico Testamento e lo sta applicando alla Chiesa. Quindi è vero che noi siamo tutti sacerdoti, questo è infatti quello che insegna anche la Chiesa Cattolica nel Catechismo, proprio questo viene detto, che siamo tutti sacerdoti. Ma tuttavia è necessario che ci sia il sacerdote che ministra, cioè il sacramento del sacerdote, del sacerdozio. Questo infatti non è mai cessato, infatti Gesù mai ha detto nella Bibbia che il sacerdozio doveva cessare. Questo non lo leggiamo da nessuna parte nella scrittura. Ora qui, come vi dicevo prima, San Pietro va a citare un passo dell'Antico Testamento. Esattamente queste parole sono prese da Esodo capitolo 19, versetto 6, che andiamo a leggere. Sono queste parole che dice Dio al popolo di Israele. E cosa gli dice? Gli dice, Esodo capitolo 19, versetto 6, Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa, queste parole dirai agli israeliti. Quindi anche il popolo di Israele erano sacerdoti tutti. E che lo dice qui la scrittura? Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Sono le stesse parole che San Pietro dice in primo Pietro capitolo 2, versetto 9. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, applicato però alla Chiesa. Mentre nell'Antico Testamento queste stesse parole venivano applicate al popolo di Israele. Il fatto però che tutto il popolo di Israele venga chiamato nazione santa, regale sacerdozio, che qui significa che erano tutti sacerdoti, però questo non annullava il sacerdozio, cioè il fatto che c'era una classe sacerdotale, che erano i Leviti, che solo loro potevano offrire i sacrifici animali a Dio. Infatti, se leggete l'Antico Testamento, il popolo, quando qualcuno per esempio commetteva un peccato, doveva andare dal sacerdote, confessare il proprio peccato, e il sacerdote offriva il sacrificio e pregava per il colpevole, quindi pregava per il popolo. Inoltre erano i sacerdoti, erano i Leviti, gli scribi che leggevano la parola di Dio al popolo e la spiegavano. Se leggete infatti Neimia, il capitolo 8, proprio questo leggiamo, che i sacerdoti avevano questo compito, quello di leggere la parola di Dio al popolo e spiegarla. Infatti, Neimia, nel capitolo 8, un attimino che lo trovo. Versetto 1, leggiamo, Allora tutto il popolo si radunò come un sol uomo sulla piazza e poi dice il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro, quindi leggeva la Bibbia al popolo, il sacerdote, poi ci dice che alla destra, alla sinistra del sommo sacerdote, diciamo Esdra, c'erano altri sacerdoti, scribi e leviti. Allora dice la scrittura, il versetto 5, Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, tutto il popolo si alzò in piedi e poi dice la scrittura, il versetto 7 e i leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi. Essi, cioè i leviti, leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso così facevano comprendere la lettura. Quindi, vedete, c'era l'ordine sacerdotale ed erano i sacerdoti non solo che offrivano i sacrifici in favore del popolo, non solo il popolo doveva andare a confessare i peccati dai sacerdoti, ma erano anche la classe levita, quindi erano anche i leviti, i sacerdoti, che avevano questo compito di leggere la parola di Dio al popolo e di spiegarla. Ora, questo sistema che troviamo nell'Antico Testamento non è cambiato nel Nuovo Testamento, perché anche nel Nuovo Testamento noi leggiamo, se leggete Efesini capitolo 4, dice che Gesù ha costituito nella Chiesa che è il corpo di Cristo di cui Cristo è il capo, ha costituito alcuni come apostoli, alcuni come maestri, dottori, e se leggiamo ancora Giacomo, il capitolo 5, leggiamo che se c'è qualcuno malato tra il popolo, tra di voi, chiami i preti, i preisbiteri. Essi pregheranno per lui e se avrà commesso dei peccati gli saranno perdonati. E poi dice confessate i vostri peccati gli uni agli altri, cioè ai preisbiteri, perché dice il contesto chiami i preisbiteri. Quindi, vedete, nella scrittura, nel Nuovo Testamento troviamo in maniera chiara il fatto che non è cessato il sacerdozio, cioè quello che era nell'Antico Testamento continua a esserci anche nel Nuovo Testamento. E' cambiato il sacrificio, questo è cambiato. Il sommo sacerdote adesso è Gesù Cristo che ha offerto il suo stesso sangue, il suo stesso corpo per i nostri peccati. Quindi, il sacerdote cosa fa durante la Santa Messa del prete cosa fa? Offre per i nostri peccati il sacrificio di Cristo, cioè l'ostia, il corpo di Cristo di cui noi anche ci nutriamo. Perché Cristo ha detto chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà alla vita eterna, Gesù dice. Chi non mangia la mia carne non ha la vita eterna, Giovanni capitolo 6. Quindi, questo è il punto. Il sacerdote è un sacramento che è stato istituito da Cristo perché lui ha nominato degli apostoli e a sua volta gli apostoli hanno nominato i vescovi in ogni città e i vescovi per imposizione delle mani nominavano i preti e così è anche oggi continua. C'è una successione apostolica che quindi questa è stata istituita da Gesù stesso che è il capo della Chiesa. Vedete quindi quello che dice San Pietro nella prima lettera di Pietro capitolo 2 versetto 9 che viene citato dai protestanti non significa che perché siamo tutti sacerdoti allora significa che non ci deve essere il sacerdote che ministra la messa e quindi non esiste il sacramento del sacerdozio. No, perché abbiamo visto è una citazione dell'Antico Testamento. gli ebrei gli israeliti erano tutti sacerdoti lo dice la scrittura voi siete per me sarete per me un regale sacerdozio eppure nonostante che erano tutti sacerdoti Dio aveva istituito il sacramento del sacerdozio che era la classe levita erano solo i leviti che potevano offrire sacrificio a Dio e che potevano spiegare le scritture al popolo quindi vedete questo non è cambiato col Nuovo Testamento e lo dimostra anche vi leggo un'altra scrittura ebrei capitolo 9 versetto 1 dove dice certo anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario terreno quindi la prima alleanza cioè il vecchio patto quando venivano offerti sacrifici animali per i peccati del popolo qui dice che c'erano delle norme per il culto da rispettare da seguire e dice la scrittura anche la prima alleanza aveva queste norme significa che anche la nuova alleanza ha le norme perché altrimenti la scrittura non direbbe non direbbe anche la prima alleanza ma avrebbe detto qui certo soltanto la prima alleanza aveva norme per il culto invece non dice così la scrittura la scrittura dice certo anche la prima alleanza aveva delle norme per il culto quindi significa che anche la nuova alleanza ha delle norme ovviamente per il culto quindi ci sono dei sacerdoti ci sono delle norme per il culto quelle che appunto troviamo nella chiesa cattolica quindi vedete quello che dicono i protestanti è falso d'altronde io cito spesso la didache e le lettere di San D'Ignazio di Antiochia San D'Ignazio è stato vescovo di Antiochia è morto martire nel 107 dopo Cristo prima di morire ha scritto delle lettere alle chiese alle chiese diciamo quelle principali sparse nel mondo e dice chiaramente in queste lettere quindi lui è vissuto nel primo secolo e era stiamo parlando di un diretto discepolo cioè che ha conosciuto gli apostoli San Giovanni Apostolo stiamo parlando di un discepolo di San Giovanni Apostolo e lui cosa dice dice in una delle sue lettere per esempio ai cristiani di Magnesia dice non fate nulla senza il vescovo e i presbiteri cioè i preti quindi è così che funziona nella chiesa di Cristo non puoi fare tutto da te ci deve essere il vescovo il vescovo nomina i preti e non si può fare nulla senza i preti cioè dobbiamo stare sottomessi al vescovo e ai preti al prete insomma poi dice ancora sottomessi al vescovo come al comandamento di Dio e così pure al collegio dei presbiteri quindi qua questo già stiamo parlando di un vescovo della chiesa di Andiochia dove dice negli atti degli apostoli leggiamo che per la prima volta ad Andiochia i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani quindi stiamo parlando di una delle chiese più importanti dopo quella di Roma c'è il vescovo che è morto martire nel 107 quindi un vescovo vissuto nel primo secolo che ha conosciuto gli apostoli quindi è stato eletto praticamente per opera degli apostoli dice chiaramente nelle sue lettere di non fare nulla senza i vescovi parla anche in queste lettere parla anche dell'eucaristia dice veramente che l'eucaristia è il corpo di Cristo parla della chiesa cattolica ho fatto anche dei video dove ho letto alcuni brani di questo scritto e vi consiglio di leggerlo la di Dachè che è uno scritto del primo secolo e le lettere di San D'Ignazio ma tutti gli scritti dei primi cristiani parlano appunto che c'erano dei vescovi in ogni città e i preti anche per esempio la tradizione apostolica di San Dippolito di Roma uno scritto del 215 dopo Cristo anche qui parla di presbiteri e di preti e di vescovi in ogni città questi vescovi hanno una successione apostolica tutt'oggi infatti nelle città sparse nel mondo ci sono dei vescovi che hanno una successione che vengono appunto che risale ai primi secoli e così anche nelle catechesi prebattesimali nel quarto secolo si parla anche qui del vescovo dei sacerdoti dei preti quindi vedete la chiesa questa è la memoria della chiesa la chiesa è stata sempre così strutturata e poi abbiamo la Giustino Martire che nel secondo secolo ci spiega come avveniva la Santa Messa e avviene come avviene oggi come facciamo noi oggi si credeva infatti Giustino ne parla dice chiaramente che quello che loro mangiano è veramente il corpo di Cristo ho fatto anche un video dove ho spiegato ho letto appunto questo quindi quello che dicono i protestanti è falso loro vi leggono dei versetti fuori contesto e li interpretano secondo le loro opinioni non seguite le divisioni le denominazioni e le sette protestanti perché chi non sta sottomesso al vescovo chi non riconosce i preti vuole fare tutto da sé è fuori dal corpo di Cristo perché il corpo di Cristo è un corpo è un corpo che deve essere unito tutto ben collegato e anche i santi in cielo fanno parte di questo corpo lo dice chiaramente la scrittura in Efesini nel capitolo 4 la scrittura lo dice chiaramente quindi non si può fare tutto da soli come pensano i protestanti che chi arriva si fa maestro si fa subito pastore da se stesso battezza e fa tutto quello che vuole lui non funziona così infatti Efesini 4 e concludo dice che Gesù Cristo ha dato alcuni ad essere apostoli altri ad essere profeti altri ancora di essere evangelisti altri di essere pastori e maestri quindi i vescovi i dottori della chiesa per questo l'ha fatto Gesù per preparare i fratelli quindi lo fa attraverso questi ministeri attraverso questi diciamo attraverso i vescovi i preti i dottori della chiesa questo serve per preparare i fratelli a combiere il ministero allo scopo di edificare il colpo di Cristo finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio fino all'uomo perfetto fino a giungere la misura della pienezza di Cristo e poi conclude nel versetto 15 dice cerchiamo cerchiamo quindi di crescere in ogni cosa tendendo a lui che è il capo Cristo da lui notate bene il versetto 16 quindi da Cristo tutto il corpo ben compaginato e connesso con la collaborazione di ogni giuntura secondo l'energia propria di ogni membro cresce in modo da edificare se stesso nella carità quindi non è impossibile che il corpo di Cristo sia diviso in 50 diverse 7 divisioni propestanti che ognuno ha opinioni contrastanti e diverse da un altro questo non è il corpo di Cristo quello è il corpo del diavolo che è un regno diviso tra se stesso e che quindi non può durare ma il governo di Cristo ha una gerarchia come abbiamo visto nel contesto alcuni sono apostoli alcuni sono vescovi pastori eccetera quindi non è che chi arriva può fare tutto da sé e tutto il corpo è ben collegato dice tutto il corpo ben compaginato e connesso con la collaborazione di ogni giuntura quindi ogni ogni parte del corpo collabora anche i santi in cielo fanno parte di questo corpo e collaborano con noi infatti loro pregono per noi quindi quello che dicono i protestanti è falso è un inganno del diavolo e va contro la stessa scrittura oltre che loro poi vanno a negare la memoria della chiesa ecco perché loro negono questi scritti per loro questi scritti non esistono perché loro fanno sono smemorati insomma fanno finta che non esiste che non c'è nessuna memoria della chiesa ma così non è la chiesa ha una memoria abbiamo tanti scritti che confermono la dottrina cattolica grazie a tutti grazie a tutti